Vediamo un po' Certo anche un bel red smite qui Invade? Va bene andiamo a fare invade Ci dovrebbe andare da bot ma apriamo da qua Robruiser full tank Ovviamente Robruiser facciamo Sunderer Facciamo Non lo so Potremmo anche fare Trinity Force Grazie per il sub Grazie Manolo di 9 mesi bentornato Grazie grazie Quindi come lo vogliamo buildare boys Super indeciso attualmente Three Force Poppy Non credo sia semplicemente meglio Sunderer Sunderer e poi Black Leaver dai Classico Classico Brizeroth Facciamo Grazie Si è ristabilizzato il ping Pazzo Evviva Ho pensato di fare questo padding Perché secondo me Iorn sono sempre facili da gancare Un po' stupidini Iorn player Io ho perso il minimo Sed Ciò che è riuscito a rovinare il gank Per quanto facile fosse Grazie a tutti Coraggioso 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 Prima non ho riuscito a prendere la kill E poi grazie al cane avversario Sono riuscito a prendere L'uccisione su Orn Alla fine no Alla fine no Alla fine no Io solo piazza Mi ha messo l'ignite Anche per caso Tiltando Ho messo l'ignite O Ah ok Guarda se vuoi Amico io suo Vengo mid Ma dovremmo acciuffare Quel maledetto Cerca di conservare Culldown Per quando vengo Sennò poi È difficile fare la kill Lo prendiamo Grazie per il sub Lo prendiamo Perché perplessità ce l'avrei Possiamo andare da Zorn Lo possiamo adevare Con la wave Grazie Mobius Mobius Grazie Grazie Certo questa è proprio La sagra Del crowd control Siamo a disgustosi Chogat Galio Poppy Cioè penso che Puoi fare Non lo so 10 secondi di crowd control Di fila puoi fare La sagra delle salcicce Esatto Udio il roaming Diciamo che Per un attimo Ho pensato Caspita questo roaming Alla fine ha funzionato Visto che Mi sbagliavo Tra virgolette E effettivamente Poi ha funzionato Ma come ha funzionato poi Come ha fatto a funzionare E poi andare male E poi ha funzionato Per funzionare di nuovo Pazzesco Eh però l'amico Yasuo Il follow up Pulito veloce Ma niente ragazzi Mi view aree sono bravissime Meno trash Che stava pingato Un quarto ora fa Ma Non ha in alcun modo Reagito In alcun modo E in alcun modo Anzi Anche Se ti ulta Mi piace Poggers Poggers Allora Allora Ho sentito Ho sentito bene Ho sentito bene Sì E questo lo deviamo subito Resisti Fai il morso Dovevo qualcosa Volevo quanto meno Una stack Di caro Questa Allora 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 Grazie a questa ward Non dovremmo vendere le pozze Broken Guarda, resta un attimino Che è un oggetto importante Io so Bi pazienza Ok, grazie Ora vengo a spaccarlo Guarda, non faccio nemmeno il blue buff Vengo straight se mi aspetti La possiamo andevare, guarda Faccio finta di andarmi Però ci giriamo Ecco qua Oh, dovevo dirti che non avevo bisogno Grazie però Guarda, lo ammazziamo Ciao Guardate sta Lulu Fetente Oh no, ce l'hai a suo? No, non mi pare da usciare addosso No, Joker mi ha ammazzato, mi ero pure salvato E si è pure ammazzato, non solo mi ha ammazzato, ma si è pure ammazzato E anche trash Andranno tutti i Provenzi all'int Sì ragazzuoli Dai, sai che invece di pushare Let's go Vediamoci il Drago che ci piace Mountain Molto forte su di noi Il Kato non è Mountain Soul Io però non ho lo Smite, è un perischiosetto Allora Allora Ops. Lo che viene è che è in mid, con quella vita l'oltre di Jinx, c'è tante cose che ti ammazzano. Servirà... Healing Reduction servirà? È orna. Occhio che è facile perdere, se non è. Nevermind. Cicci power. 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 Quanto costa l'item che voglio io? Ce l'ho. È giunta la fine per loro. Cioè, in realtà mi serve anche la Brumble per far sì che arrivi davvero alla fine, però... Questo è in questa partita. Ha infinito value. Guarda di che fieri. I chad. Cicci power. I chiedi che sono molto più grande. Grazie per i sub Diciamo che tankiamo per Benino Grazie Jack dei 10 mesi Scammata l'altra sciolone Fa un po' schifo quindi lo buscerei Sarebbe il loro red, il draghetto Vorrei andare back perché non vedo gli altri Tranqui tranqui Diciamo che forse avremmo potuto ammazzarlo Ne sono proprio sicurissimo Però era comunque un prischiosetto perché ha tanto healing a cellulo vicino Quindi se non si barsta poi si rifulla di air Adesso che l'ingredaction è anche più facile Ce l'hai pure tu Meno male Jack Grazie le 10 Meno male I avversari sono Ah io sono andato se vi crack and slayer Vabbè ci sta Sto game è Siamo tutti i tank Siamo Dobbiamo fare attenzione perché per quanto armor possiamo buildare Sicuramente ci faranno DPS Abbiamo una teamfight comp per cui sfruttiamo i nostri cc Sì 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 E' solo stacchi della Carvest evviva Abbiamo un altro item Dark Carvest su Poppy è molto carino C'è anche lo Blades C'è anche il Creator C'è anche... Vabbè Penso basta In realtà come possibilità Se non vuoi andare a Aftershock Ma è cringino E' molto forte Cioè Poppy ha il base damage super alto Se stacchi tanto Dark Carvest Ti fai un botto di danno Di solito credo sia comunque Creator e lo Blades Perché alla fine Ti affidi allo snowballare Con Dark Carvest Però se prendi tante kill L'HR di Poppy è bestiale E funziona molto bene Cos'è Kai Sabotre Crash Che diamine di build è questa Che stregoneria è Tanto si arrivano Ci giriamo Li spacchiamo Cioè in questa fase del game Se anche io su shield a tutti Credo sia Come è appena successo No? Più o meno Siamo talmente chad Talmente pieni di crowd control E alla fine si vince sempre Siamo 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 Grazie a tutti. Bene. Allora. Ho preso lo spike. Oh no, è arrivato in spike, aiuto. Dobbiamo sbrigarci a chiudere allora. Sarebbe carinissimo avere le 6 ruffie. Potrei recollare. Ma chiudiamo direttamente direi. Guarda che ti tiro fuori dal muro. Quanto tanto si daiut. Sento male per loro. DG? Shaddoni wins. Invitatemi velocemente ragazzi che ne faccio l'ultima prima di andare via. Gigi, Gigi. Va bene, accetterò al volo allora. Onoriamo al signor Yasuo. Se sei le cavate. Grazie. 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 Grazie.